Perché la musica, se siamo bravi, siamo capaci, la sappiamo fare, abbiamo del talento, perché non dovrebbe essere un nostro lavoro? Perché dobbiamo pensare sempre in basso? No, ma quello è solo un hobby, è un piacere, poi il lavoro è un'altra cosa. No, per me il lavoro è tutto così, cioè tutti dovrebbero avere la possibilità, tutti dovrebbero combattere, tutti dovrebbero cercare di fare quello che gli piace fare e di essere pagati. Ovviamente devi essere bravo, ma questo a rendersi a priori, dire no, ma la musica è troppo bella, non potrebbe essere un lavoro, è una passione. Cioè io estendo questo discorso in generale, in tutto, al lavoro in generale. Per me il lavoro è qualcosa che mi piace, cavolo, non è uno stipendio a fine mese. Per me è stata la musica, ma può essere qualsiasi cosa in qualsiasi altro campo, perché dobbiamo stare bassi, fare una vita, cioè, accontentarci? Non lo so, ditemi cosa ne pensate. La musica è un lavoro, cavolo, è un lavoro, c'è una richiesta di musica, ok? Quindi è un lavoro. Perché volare basso? Perché arrendersi ancora prima di cominciare? Ditemi la vostra opinione. E se anche voi la pensate come quelle tante persone che ho sentito, dire no, la musica non è un lavoro, essere pagati per fare qualcosa che mi piace non può essere. Perché non può essere? È esattamente quello il lavoro per me. Essere pagati per qualcosa che mi piace. Non esiste altra definizione di lavoro per me. Ditemi cosa ne pensate. È buona musica e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie.